acceso, ma sono molto più sportivo per la Nocerina di tanta gente che oggi ne sta parlando intorno e che nella mia vita so che non ha mai tirato un calcio ad un pallone e oggi li vedete lì seduti come se fossero i mamma santissima del calcio. Io spero che la Nocerina resti iscritta, resti iscritta alla Lega Pro, che la società continui a fare se vuole la sua parte. Oggi c'è anche una possibilità, c'è un privato che dichiara di volere intervenire a sostenere i costi, il completamento della vicenda, dare, avere e nella misura in cui questo sarà determinato per i lavori allo stadio, tra comune e società, è un capitolo a parte che va avanti, andrà avanti, avrà il suo percorso, ma non può essere portato come capestro a 4 giorni, 8 giorni per la fiduzione, perché è una cosa che non sta nel cielo intero, anzi è uno scarico di responsabilità e significa che non ci si vuole assumere la responsabilità di iscrivere alla società invocando la questione della differenza di danaro, ma questa è una bestemmia che capisce chiunque, voglio dire, non lo devo dire io. Poi lo ripeto, forza Nocerina, il primo a dirlo sono io, il primo a dirlo sono io, perché è la squadra della mia città e non è uno strumento politico, è la squadra della mia città. Bene, è stato molto preciso, molto chiaro, credo che molti dubbi siano stati superati con queste sue dichiarazioni, ovviamente ci auguriamo che tutto possa essere risolto nel migliore dei modi e nel rispetto delle norme come lei dice, sia come sindaco e quindi massima espressione della città, ma anche come uomo di legge, visto che come attività professionale è un avvocato. Bene, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo sforato con gli orari che c'erano stati dati, abbiamo parlato di manutenzione, di attività, di cose importanti fatte nel primo periodo, di cose più semplici che noi cittadini vediamo giorno dopo giorno nella città, abbiamo chiuso con questo lungo periodo dedicato al calcio. Grazie al sindaco di legge inferiore, Malleo Torquato, grazie a voi per averci seguito e arrivederci.